Nuova villa da sogno, vale la pena di dirlo, per Michelle Unziker e Tommaso Trussardi. La coppia, una delle più amate e chiacchierate del gossip italiano, starebbe per dare il via ai lavori di costruzione della villa sul lago di Garda unifamiliare, in uno scenario spettacolare che offra a Michelle, Tommaso e le figlie, oltre ad Aurora, la possibilità di una location extra lusso che affacci su tutto lago. D'altronde è cosa nota che il lago di Garda sia una delle mete più gettonate ed ambite per i desideri dei vivi di tutto il mondo. Lo stesso George Clooney, uno dei personaggi più in vista di Hollywood, è stato sempre associato all'Italia per via della sua splendida villa sulle sponde del lago italiano. Nello specifico, stando a quanto riportato da Brescia Today, Michelle Unziker e Tommaso Trussardi presto avranno la loro villa gardesana edificata su un terreno acquistato due anni fa, nel 2014, a Gaino, frazione di Toscolando Maderno. In questi giorni infatti, il comune avrebbe dato via libera per la costruzione di una villa unifamiliare. In relazione ai dettagli specifici del progetto, non si sa molto al momento, se non che le caratteristiche dovrebbero essere quelle di una villa extra lusso. Si sa che la nuova casa sarà dotata di piscina anche interna, e che la location prescelta porta con sé, manco a dirlo, una vista spettacolare, su tutto lago. Non è dato sapere, al momento, che tipo di utilizzo i due avrebbero intendione di fare della casa, ma è presumibile che, visti gli impegni di entrambi e soprattutto della conduttrice, difficilmente si possa immaginare un utilizzo differente da quello che si farebbe di una casa di vacanza. Almeno per i prossimi anni, quelli in cui gli impegni per Michelle e Tom Aso, artistici per l'una, imprenditoriali per l'altro, dovrebbero essere fittissimi. Chi se ne frega!